12 dicembre 2015, firmato l'Accordo di Parigi. È un trattato internazionale vincolante adottato alla COP21 sui cambiamenti climatici da 196 stati. Il suo obiettivo è mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto di 2 gradi Celsius in più rispetto ai livelli preindustriali per limitarlo preferibilmente a 1,5. È una pietra miliare nel processo multilaterale sul cambiamento climatico perché per la prima volta diviene vincolante la visione di realizzare sviluppo e trasferimento di tecnologia sia per migliorare la resilienza sia per ridurre emissioni di gas serra. L'Accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016 con l'adempimento della condizione di ratifica da parte di 55 Paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali di gas a effetto serra. Tutti gli Stati dell'Unione Europea hanno ratificato l'Accordo ed hanno convenuto di intraprendere azioni per diventare la prima economia e società a l'impatto climatico zero entro il 2050.